Benvenuti, benvenuti a tutti, grazie di essere presenti a questo secondo appuntamento dei seminari online Agamennone Classico e Contemporaneo. Oggi Liana Lomiento e Gianpaolo Galvani ci parleranno del dialogo tra clitennestre e il coro nel finale dell'Agamennone, assetto lirico, struttura strofica e drammaturgica e ho il piacere, il grande piacere di salutare i nostri ospiti, di accoglierli anche se soltanto virtualmente nel nostro campus di Ravenna e passo poi la parola subito al professor Rendo Tosi dell'Università di Bologna, del Dipartimento di Filologia Classica e Pelanistica di Bologna, che introdurrà questa sessione e quindi gli cedo subito volentieri la parola. A te Renzo. Intanto sono assolutamente molto allusingato di fare il chairman di questa riunione e di presentare i colleghi che parleranno oggi. Sono anche molto contento di intervenire in questo convegno, oppure un convegno così, fatto in questo modo, perché la pandemia ha costretto gli organizzatori a trasformarli in questo modo. Sono molto contento anche perché se c'è un testo che mi ha sempre interessato, cui ho dedicato anche dei corsi nella mia vita, proprio la gamennone di Eschido, credo che sia uno dei testi capitali, uno dei grandi capolavori del teatro antico, del teatro di tutti i tempi. Oggi ci parleranno della gamennone due grandi studiosi, due di cui una è la maestra dell'altro e per me presentarli è un po' difficile perché effettivamente sono due studiosi conosciuti. La professoressa Loniento è oltretutto una carissima amica e questo lo devo dire, io non sono di quei presidenti che dicono sempre che questo è un carissimo amico e poi casomai si erano visti solamente due minuti prima. Ecco, questo a volte capita e a volte mi fa ridere. Invece no, io sono sincero, Liana è veramente una carissima amica, oltre che devo dire una grandissima studiosa, io l'ho sempre ammirata molto e credo la degna erede di uno dei personaggi più importanti della filologia classica della seconda metà del Novecento, cioè di Bruno Gentili. Lei ne ha preso il testimone e devo dire che ha portato avanti i discorsi di Gentili, li ha portati avanti con assoluta acribia, con assoluta intelligenza e devo confessare anche una certa ammirazione nei confronti di Liana. Quando noi parliamo di Liana Lomiento, certamente abbiamo presente il suo libro, il suo volume, il suo manuale, la sua metrica, abbiamo i suoi studi metrici, però non vorrei che questo significasse Liana Lomiento e la metrica. Liana Lomiento è una grandissima studiosa di metrica, però io vorrei un attimo fermarmi solo un secondo sul fatto che è una finissima studiosa dei testi. Le sue studi della metrica non sono fini a se stessi, sono funzionali all'esegesi dei testi. Basta vedere le lettere che ha pubblicato per la Fondazione Valla, basta vedere altri lavori, per i lavori supplici, per fermarsi solo agli ultimi lavori. E' questo che è importante, credo, il fatto che lei abbia questa grandissima competenza metrica, ma non fine a se stessa. E' soprattutto una grande, un'ottima esegeta dei testi, in particolare dei testi teatrali antichi, dove la metrica e la musica, non dimentichiamoci, erano un elemento assolutamente primario. Non dimentichiamo che quando dobbiamo parlare del teatro antico, noi non possiamo mai pensare a un teatro in prosa, come purtroppo molto spesso si è fatto. Era un teatro senz'altro per la musica ed era un teatro di tipo differente rispetto a quello che noi intendiamo come teatro con prosa. E la Liana è sicuramente molto acuta in questo tipo di studi. E non per niente anche Giampaolo Galvani, che parlerà dopo la professoressa Lomiento, è un allievo della professoressa Lomiento. E come lei ha studiato molto il discorso metrico, tra l'altro nel suo curriculum c'è anche un importante dottorato con duplice che vale sia per la Francia sia per l'Italia, un dottorato a Trento con anche Giude della Com, altro studioso importante della Gamedone di Eschilo e comunque del teatro antico. In particolare Giampaolo Galvani ha studiato l'Ecoeffor, ha anche curato lavori, volumi importanti, traduzioni importanti di volumi sull'Ecoeffor, ha scritto anche un volume sull'Ecoeffor, ma sicuramente l'elemento metrico anche per lui è un elemento centrale. Ecco, io ho detto solo queste poche parole, di solito non amo molto i presidenti che fanno interventi troppo lunghi, così prendendo spazio ai relatori e quindi inviterei questi due amici a parlare e a fare la loro relazione. Renzo, grazie mille per questa presentazione, persino insomma che mi ha un po', che mi ha colpito, che mi ha commosso, ti ringrazio molto per queste parole generose. Comincio allora subito facendo intanto per far fare a tutti, affinché tutti possiamo fare mente locale sul passo che andiamo a studiare oggi, cioè il dialogo tra clitemestre e il coro nella scena finale della Gamennone, comincerai subito a leggere, a rileggere insieme questi versi, i versi 1406-1575, nella traduzione di Enrico Medda, che l'ha pubblicata nella recente edizione, in tre volumi, poderosa edizione della Gamennone, pubblicata appunto da Barbi Editore con il patrocinio dell'Accademia dei Lincei nel 2017. Leggo la traduzione dunque prima di iniziare, di avviare la lezione propriamente detta. Le sigle sono naturalmente coro e clitemestra, che sono i due dialoganti. Il coro canta in tono a un canto, clitemestra, replica dapprima in trimetri giambici e poi in metri anapestici. Ho distinto, guardate, le varie sezioni di questa lunga scena dialogica con lettere maiuscole che denotano le strofi liriche e lettere minuscole che denotano le sezioni recitate. Di quale malefico cibo, donna, nutrito dalla terra o di quale pozione scaturita dai frutti del mare ti sei cibata per prendere su te questo sacrificio e le maledizioni lanciate dal popolo? Via le hai gettate, via le hai tagliate, via dalla città sarai mandata pesante oggetto d'odio ai cittadini. Adesso per me pronunci la condanna all'esilio dalla città e a incorrere nell'esecrazione dei cittadini e nelle maledizioni gridate dal popolo senza sollevare affatto lo stesso argomento contro quest'uomo che senza tenerne alcun conto, come se si trattasse della morte di una bestia quando le greggie abbondano di pecore lanose, sacrificò sua figlia, il frutto carissimo delle mie doglie, come incantesimo per i venti di traccia. Non è lui che avresti dovuto mandare in esilio da questa terra come pena per quelle sozzure. All'udire le mie azioni, invece, sei un giudice severo. Ma io ti dico, queste minacce falle tenendo conto che sono preparata a uno scontro a darmi pari e accetto l'idea che chi mi abbia vinto con la forza abbia potere su di me. Ma se il Dio decide in senso opposto, dovrai subire una lezione e imparerai, anche se tardi, a essere saggio. I tuoi pensieri sono smisurati, hai pronunciato parole superbe, proprio come il tuo animo delira per un atto sanguinoso. Un grumo di sangue spicca sui tuoi occhi. In contraccambio, privata degli amici, è necessario che tu paghi colpo con colpo. E adesso ascolti il mio giusto giuramento. Per la giustizia di mia figlia, che trova compimento, per la rovina e per le rigne alle quali ho sgozzato quest'uomo, l'attesa della paura non si aggira nella mia casa, fino a quando accenderà il fuoco nel mio focolare Egisto. Fedele come in passato. Perché quest'uomo per noi è non lieve scudo d'audacia. Giace morto l'uomo che ha oltraggiato questa donna, la delizia delle Crisei di Dilio, e con lui questa prigioniera, indovina e compagna di letto, profetessa, fedele concubina, che strofina l'albero sui banchi delle navi. Non è meritata la sorte che hanno subito. Lui, così come ho detto, lei invece, la sua amante, giace, dopo avere cantato come un cigno l'ultimo lamento di morte. E per me ha apportato la delizia del loro letto che si aggiunge alla mia volutà. Ah, se solo, veloce, un destino che non causi dolore e non faccia giacere in un letto potesse venire a portarci l'eterno sonno senza fine, ora che è stato domato il custode tanto benigno che patì molto a causa di una donna e per mano di donna ha perduto la vita. Ah, i folle Elena, che da sola quelle molte, davvero molte vite hai distrutto a Troia, ma adesso ti sei ornata della corona più piena che a lungo sarà ricordata grazie al sangue che non si può lavare, la contesa di salde radici che era allora nella casa, sventura per il marito. Non augurarti destino di morte sotto il peso del dolore per questi fatti e non rivolgere la tua collera contro Elena chiamandola rovina d'uomini e dicendo che lei da sola distrusse molte vite di Danai e inflisse un dolore che non si contrasta. O demone che ti abbatti sulla reggia e sui due discendenti di Tantalo, tu eserciti grazie a donne d'animo uguale un potere che mi strazia il cuore e stando sopra il cadavere come un corvo a me ostile si vanta in modo sguaiato levando un canto. Ora hai corretto l'opinione espressa dalla tua bocca invocando il demone di questa stirpe, tre volte pasciuto. Da lui viene infatti una brama di leccare sangue, nel ventre si alimenta, prima che sia cessato l'antico dolore, nuova putredine. Davvero possente contro questa casa e dall'ira pesante il demone che esalti. Ai ai, tristo elogio di insaziabile sorte e di rovina. Io, ie, grazie a Zeus che di tutto è causa, di tutto è autore, perché cosa mai si compie per gli uomini senza Zeus? Quale di queste sventure non è decisa dagli dèi? Io, io, mio re, mio re, come ti piangerò? Che parole trarrò dal mio cuore fedele? Tu giaci in questa tela di ragno esalando in un'empia morte l'ultimo respiro. Oimè, oimè, disteso in questo modo ignobile, domato di morte subdola per mano di tua moglie con un'arma a doppio taglio. Tu ti senti di dire che quest'atto è opera mia, ma non tener conto del fatto che sono la sposa di Agamennone. Manifestandosi alla moglie di questo morto, l'antico aspro demone di Atreo, il commensale crudele, ha dato in pagamento quest'uomo, aggiungendo un adulto al sacrificio dei giovani. Che non sei colpevole di questo assassino, chi potrà testimoniarlo? Come? Come è possibile? Ma un demone vendicatore che discende dal padre può forza essere complice, in furia, violento tra nuovi fiotti di sangue dello stesso seme, il nero are, se qui abbiamo un problema testuale, al sangue ragrumato, divoratore di giovani. Io, io, mio re, mio re, come ti piangerò? Che parole trarrò dal mio cuore fedele? Tu giaci in questa tela di ragno, esalando in un'empia morte l'ultimo respiro. Oimè, oimè, giacendo in questo modo ignobile, domato di morte subdola per mano di tua moglie, con un'arma a doppio taglio. Non fu ignobile per lui la morte, io penso, non fu proprio lui a imporre alla casa una subdola rovina, ma subendo degna punizione per gli indegni atti compiuti contro il mio germoglio concepito da lui, la tanto pianta effigenia, non si vanti nell'Ade, poiché ha pagato le sue azioni con la morte inferta da un colpo di spada. Privato dell'efficace intendimento del pensiero, non so dove volgermi mentre la casa rovina. Ho paura del frastuono della pioggia che abbatte la casa, rombo di sangue, cessano le gocce. Ma la moira affila su altre coti la giustizia per una nuova azione dannosa. Io, terra, terra, mi avessi tu inghiottito prima di vedere quest'uomo occupare il misero giaciglio della vasca dai bordi argentei. Chi lo seppellirà? Chi leverà il lamento funebre? Avrai cuore tu di fare questo, piangere tuo marito dopo averlo ucciso? E ingiustamente fare alla sua ombra un omaggio, non gradito, in cambio di grandi azioni. Chi con sincerità d'animo si darà pena di levare fra le lacrime, sulla tomba, una lode per quest'uomo divino? Non spetta a te darti pensiero di questo compito. Per mano nostra è caduto? È morto. E staremo noi a seppellirlo, non tra i gemiti dei familiari. Ifigenia, invece, sua figlia, come è giusto, accogliendo il padre a braccia aperte presso il passo dei dolori dalla corrente veloce, lo bacerà, gettandogli le braccia al collo. Questo oltraggio giunge in cambio di oltraggio. Dura battaglia è il dare un giudizio. Uno depreda chi depreda e l'assassino paga. Resta saldo, come resta Zeus sul trono. Chi ha agito deve subire. È legge. Chi potrà mai cacciare dalla casa il seme della maledizione? La stirpe è invischiata nella rovina. Sei giunto a questa predizione cogliendo la verità, ma stringendo un patto col demone dei plisteniti? Io voglio accettare questi eventi, pur duri da sopportare, e per il futuro che lui, lasciando questa casa, travagli un'altra famiglia con assassini, i traconsanguinei. Anche se possedessi solo una piccola parte dei beni, qualsiasi cosa mi basterebbe una volta che avessi cacciato da questa casa la follia di vicendevoli omicidi. Il finale della Gamennone, come anche il finale delle Eumenidi, che rispettivamente aprono e chiudono la trilogia dell'Orestea, sono per la gran parte occupati nella concezione dell'autore da una tipologia scenica che negli studi moderni è definita Amebeo lirico-epirrematico, punto 1b dell'end-out. Si tratta di una forma di dialogo caratteristica del teatro greco classico, nota a noi proprio a partire dai persiani di Eschilo, rappresentati nel 472 a.C. in questa tipologia di dialogo intervengono di norma due personaggi o, come è più consueto nel teatro Eschileo superstite, il coro e un personaggio. Di essi l'uno, in Eschilo solitamente il coro, intona un canto nei versi tipici dell'antica tradizione lirica e l'altro replica, pronunciando di norma trimetri giambici, misure di ritmo quaternario o, più raramente, dimetri anapestici, misure di ritmo più largo, quaternario, tipiche della recitazione o del recitativo. Questi interventi, recitati o in recitativo, sono definiti epirremi negli studi moderni. Per via del suo carattere dialogico, da cui la designazione di amoebaion, cioè dialogo, l'amebeo lirico epirrematico è un genere strofico eminentemente teatrale, con la caratteristica del doppio registro del canto e della recitazione che lo rende unico e del tutto peculiare rispetto a ogni altra scena dialogata del teatro sia antico che moderno. Proprio per via di questa particolarissima struttura che lascia interagire nella forma di botta e risposta il recitato o recitativo e il canto, l'amebeo lirico epirrematico ha sollecitato gli studiosi di volta in volta a indagarne le caratteristiche tematiche psicologico-emotive come pure gli aspetti musicali inerenti alla specifica articolazione strofica delle parti cantate e recitate. Sotto questo rispetto la struttura lirico-epirrematica è utilizzata dagli antichi autori di teatro con una certa libertà di realizzazione e nel bilanciamento tra le sezioni in versi liri con una certa libertà nella realizzazione e nel bilanciamento tra le sezioni in versi lirici destinate al canto che in eschilo sono sempre in responsione fra loro e le sezioni epirrematiche che in molti casi sono anch'esse tra loro in responsione secondo uno schema guardate per favore l'end-out A-B A-B vi ricordo che le lettere maiuscole sono le sezioni liriche le minuscole le sezioni epirrematiche cioè quelle in versi recitati trimetri giambici o dimetri anapestici o anche tetrametri trocaici o giambici dipende ma in molti altri esibiscono invece estensioni asimmetriche con schema A-B A-C in obbedienza a specifiche ragioni estetiche e drammaturgiche sono segnali importanti che ineriscono alla concezione musicale e sono dunque elementi della significazione non assolutamente sottovalutabili ai fini di una esatta intelligenza dell'opera teatrale antica l'indagine sulle forme musicali consente nel caso specifico un parziale recupero dell'impatto estetico dell'arte eschilea tale da trasformarci in spettatori in luogo di lettori nel finale della gamennone la forma musicale dell'amebeo lirico epirrematico nel modo specifico e molto originale in cui Eschilo lo ha concepito da un contributo significativo alla definizione dei personaggi in particolare del personaggio di critemestra e al potente effetto emotivo della scena sul pubblico provare a evidenziarlo sarà l'oggetto del mio breve intervento nonostante nonostante il coro dei vecchi consiglieri fedeli al re agamennone manifesti a più riprese nel corso di questa tragedia la tendenza a inquadrarla nel ruolo di una donna facile a entusiasmarsi credula e impressionabile conforme al pensiero comune che riservava ai soli maschi la capacità di prendere decisioni sagge confinando le femmine ai domini dell'emotività e dei sentimenti critemestra seguitemi per favore nel punto 3 dell'endout dimostra presto di saper parlare e ragionare in maniera assennata come farebbe un uomo verso 351 e reagisce con fastidio alle critiche degli anziani versi 590 593 li avete a schermo non li traduco ovviamente per ragioni di tempo ma mentre parlo li potete verificare e là è ben consapevole dei doveri che tradizionalmente spettano alla sposa fedele di proteggere i beni dello sposo e difendere l'integrità della casa lo si legge ai versi 605 e seguenti e 861 913 tuttavia sa appropriarsi al momento opportuno del linguaggio tipico della sfera maschile e della guerra arrivando in qualche caso a rappresentarsi in termini di parità rispetto al maschio al punto da indurre lo stesso Agamennone ad ammonirla al verso 940 per esempio e a equiparare la propria azione assassina a un cimento degno dell'eroe dell'epica sono i versi 1377 e seguente e 1404 e seguenti in tutta la tragedia Crite Mestra si mostra in grado di utilizzare il linguaggio in maniera manipolativa e mimetica secondo quanto di volta in volta sembri più funzionale ai suoi piani la diabolica abilità della regina ad atteggiarsi attraverso parole ingannevoli la sua lingua odiosa di cagna è stigmatizzata verso 1228 nel discorso profetico di Cassandra ove è messo a nudo il rovesciamento dei ruoli tra maschio e femmina che ha percorso la prima parte della tragedia e con la visione della vacca che aggredisce il toro ai versi 1125 e 1128 è efficacemente anticipata l'inaccettabile uccisione dell'uomo perpetrata dalla femmina il pudore che di norma contraddistingue il comportamento femminile è effettivamente rifiutato da Crite Mestra al punto che la giunge a compiacersi dell'assassinio e del sangue che la imbratta sono i versi 1389-92 proprio come le rinni nelle eumenidi al verso 254 si compiacciano dell'odore del sangue di Oreste osserva bene Enrico Medda nel suo recentissimo commento che Crite Mestra presenta la propria azione come l'esito legittimo di una ostilità insanabile ella ha ucciso un nemico e ciò le dà il diritto come a un guerriero dell'epos di levare il suo vanto sul corpo che giace è un vanto intollerabile e assurdo per gli anziani di Argo sul cadavere del re nella parte conclusiva della tragedia dopo il delitto la donna è ormai pronta a combattere a viso aperto senza più necessità di inganni esige da essere trattata da pari a pari suscitando lo sgomento del coro come risulta chiaro dai versi 1399 e 1406 dove all'esclamazione di stupore con cui i vecchi di Argo reagiscono all'audacia verbale della regina e al vanto inopportuno ella risponde fiera cercate di mettermi alla prova come una donna sciocca peiraste murnaikos osafrasmonos ma con cuore che non trema io parlo a chi sa bene e che tu voglia lodarmi o biasimarmi fa lo stesso questo è Agamennone il mio sposo ed è un cadavere ad opera di questa mia destra artefice di giustizia è a questo punto che inizia l'amebeo l'irico epirrematico con cui l'Agamennone si avvia alla conclusione la sua struttura strofica si può schematizzare in questo modo al punto 4 dell'end out vi ho dato lo schema è una struttura complessa come vedete dove si alternano strofi liriche a sezioni epirrematiche A B A C B C che è una sezione lirica aggiunta D B D D E E D E F F G G F H vi ho precisato sulla destra la consistenza e la qualità delle sezioni epirrematiche trimetri giambici nel primo blocco antistrofico e dimetri anapestici a seguire nei successivi sono quattro coppie antistrofiche nella seconda terza e quarta come vedete ci sono delle asimmetrie si inseriscono delle strofi C che ho evidenziato grandi C E E E E G poi ne riparliamo naturalmente l'intensificazione della emotività del coro è segnalata a livello della musica dal passaggio dal semplice dialogo perché siamo fino al verso 1406 come vedete sono trimetri giambici dal verso 1407 il coro inizia a cantare esplode nel canto questo significa una esplosione di emotività no? quindi ed è segnato dal passaggio dal semplice dialogo in trimetri giambici al canto seguitemi per favore al punto 4A dell'end out con il quale i vecchi argivi aprono la scena la sfrontatezza di Crite Mestra è qui per un colmo di incredulità attribuita all'effetto di qualche cibo o bevanda malefica nell'antistrofe il coro esprime una nuova condanna per i pensieri smisurati e la superbia della donna conseguenti al suo crimine un grumo di sangue si scorge ancora sugli occhi ed ella dovrà pagare colpo su colpo per ciò che ha commesso se il canto è il segno attraverso il quale la musica evidenzia la commozione l'afflizione del coro i trimetri giambici di Crite Mestra nella replica epirrematica BC stili minuscolo stilizzano il controllo razionale e la risolutezza con cui la regina recrimina e ribatte punto per punto alle accuse contestando che nessuno oso muovere una critica quando il re sacrificò la piccola effigenia frutto carissimo delle sue doglie per la giustizia di sua figlia per la rovina e le rinni ella sgozzò lo sposo qui la menzione delle rinni introduce l'idea della vendetta insieme alla famiglia e prepara il tema centrale sviluppato nel resto dell'amebeo ovvero l'azione di potenze demoniche che si sono scatenate all'interno della casa a partire dal verso 1448 come vi ho anticipato poco fa l'articolazione strofica dell'amebeo si complica il dialogo lirico epirrematico seguitemi per favore al punto 4b propriamente detto prosegue ancora come vi dicevo con tre coppie antistrofiche intonate dal coro BB DD F F cui rispettivamente si intercalano gli interventi epirrematici di critemestra DDF GH questi ultimi come vi dicevo non sono più in trimetri giambici recitati ma in dimetri anapestici che introducono l'effetto di un allargando metrico ritmico per usare un'immagine attinta al gergo della musica che connota il tono ora più maestoso e imponente della regina ulteriormente marcato forse dalla scena in recitativo in più tra le sezioni siamo al punto 4c dell'end out in più tra le sezioni epirrematiche propriamente dette si interpongono come vi facevo notare quattro strofe aggiunte due strofe mesodiche tra la strofe e l'antistrofe rispettivamente della seconda e della quarta coppia b c b f g f e due e finni ovvero ritornelli ritmi lirici scusate che si ripetono identici dopo la strofe e l'antistrofe della terza coppia d e d e anche in questa sezione del dialogo lirico epirrematico così complesso sul piano strofico musicale il confronto tra i vecchi e la regina prosegue tra smarrimento biasimo e indignazione quando critemestra prendendo spunto dal riferimento fatto dal coro al demone vendicatore che si abbatte sulla reggia verso 1468 e dopo avere rievocato le vicende degli atridi dove affondano le autentiche radici dei mali della stirpe giunge a identificarsi con l'antico aspro demone di atreo al verso 1501 con le rini stessa commensale crudele che ha dato in pagamento agamennone aggiungendo un adulto al sacrificio dei giovani la maggiore complessità siamo al punto 4d dell'end out strofica e musicale e l'introduzione dei dimetri anapestici che sostituiscono i trimetri giambici nelle sezioni epirrematiche contribuiscono in sintonia con il testo verbale a connotare il clima psicologico di crescente gravità che caratterizza questa parte del dialogo fino alla sezione conclusiva dove l'ultima coppia antistrofica FF evidenzia nel culmine del confronto l'incapacità del coro a proseguire un dialogo infruttuoso con la regina e a temere per la rovina in cui sembra invischiata la stirpe le ultime repliche di clitemestra d'altra parte sono le sezioni G e H si chiudono con una nota di incertezza sul futuro forse foriero di nuovi delitti subito prima che Egisto faccia il suo ingresso per dare spazio all'exodos intendo ora soffermarmi a esaminare più da vicino la funzione estetica e drammaturgica degli anapesti introdotti in questi versi in luogo dei trimetri giambici nelle sezioni epirrematiche alla luce dell'usus eschileo e d'altra parte il significato musicale delle sezioni liriche aggiunte introdotte all'interno della bilanciata struttura standard del dialogo lirico epirrematico seguitemi per favore al punto 5 dell'endout se guardiamo alle 13 scene di amebeo lirico epirrematico che si contano nel teatro eschileo superstite le misure anapestiche nelle sezioni epirrematiche sono utilizzate soltanto in tre occorrenze di queste due nella sola orestea ovvero oltre all'amebeo dell'agamennone del quale ci stiamo occupando nelle eumenidi quest'ultima tragedia come dicevamo ha proprio come accade nell'agamennone il finale occupato quasi interamente da una spettacolare scena di amebeo lirico epirrematico tra le erini ed atena il terzo caso è nel prometeo nel dialogo lirico epirrematico di prometeo con le figlie di oceano ci troviamo nella parodo il canto di ingresso del coro sulla scena e gli anapesti pronunciati dal titano che risponde al canto delle dee tipicamente ne accompagnano l'entrata il tono è grave e ricco di patos prometeo deplora la propria tormentata condizione e la dispotica durezza di zeus ha i caratteri tipici di un amebeo lirico epirrematico anche l'ampia scena che occupa quasi per intero il finale delle eumenidi ed esibisce nelle sezioni epirrematiche che spettano la dea atena in dialogo con le furie la medesima transizione dai trimetri giambici alle misure anapestiche osservabile già nella prima tragedia della trilogia ed è una corrispondenza che non sembra casuale anche qui come nelle repliche di clitemestra nella gamennone il passaggio alle misure anapestiche segna un innalzamento del registro discorsivo con l'introduzione di un ritmo improntato a maggior compostezza e maestà da una prima fase del dialogo nella quale la dea atena recitando in trimetri giambici tenta con argomenti persuasivi di placare la furia delle dee nella seconda parte della scena una volta ottenuta la disponibilità delle erini a deporre l'ira e a cooperare ha inizio una nuova sezione dell'amebeo lirico epirrematico nella quale si intrecciano le voci delle erini ormai benevole che intonano benedizioni per la città e di Atena in misure anapestiche con cui la dea rende grazie a Peitò che le ha consentito la vittoria ed esorta dapprima gli areopagiti e poi tutta la cittadinanza a rispettare la grandezza delle idee che la città acquisisce e a rendere loro i giusti onori esattamente come nelle Eumenidi anche nella Gamennone il passaggio delle sezioni epirrematiche in trimetri giambici a quelle in misure anapestiche o eseguite in recitativo e alle misure anapestiche recitate o eseguite in recitativo è il segno a livello musicale di un innalzamento del tono quando Crite Mestra identificata con la figura stessa del demone vendicatore di Ifigenia con accresciuta imponenza e autorità risponde alle accuse inflessibili del coro lasciando da parte il caso del Prometeo dove l'uso degli anapesti epirrematici nella parodo lascia a mio avviso un'incertezza sulla funzione propria di queste misure tra la solennità del testo pronunciato dal Titano e la circostanza scenica che potrebbe plausibilmente indicare per le sequenze anapestiche una funzione di accompagnamento dell'ingresso del coro secondo una prassi più comunemente riscontrabile in Euripide ad esempio e in Sofocle i dati significativi prendiamo il punto 6A dell'endout i dati significativi in nostro possesso che provengono appunto dalla Gamennone e dalle Eumenidi dove come abbiamo osservato gli anapesti si avvicendano a sezioni epirrematiche entrimetrigiambici con un effetto di allargando dicevamo di allargando metrico ritmico fanno ritenere che Eschilo usasse gli anapesti nelle sezioni epirrematiche del dialogo lirico-epirrematico con la funzione di connotare un discorso di registro più alto più maestoso più pieno più prominente tale impressione trova forse conferma il punto 6B nella ripresa di questa originale tecnica Eschilea da parte di Euripide nell'Alcesti dove la transizione dai trimetri giambici ai dimetri anapestici nelle battute epirrematiche di Admeto in dialogo con il canto della sposa morente segna di fatto un allargarsi del ritmo nel momento culminante dell'invocazione ad Alcesti che non muoia ed è anche notevole qui l'esatta simmetria che emula il modello delle parti liriche ed epirrematiche assegnate ai due congi tornando al finale della Gamennone c'è un ulteriore aspetto interessante su cui da ultimo in conclusione mi soffermo rispetto alla funzione espressiva di allargando del ritmo che diviene più statico maestoso e prominente sottolineata dalle misure anapestiche nelle sezioni recitate o in recitativo degli amebei lirico-epirrematici mi sembra che un ruolo espressivo del tutto differente sia svolto dagli anapesti cantati che introducono ciascuna delle quattro strofe aggiunte in posizione rispettivamente di mesodo e di efimio intercalate alla struttura bilanciata e perfettamente riconoscibile dell'amebeo lirico-epirrematico è il punto 7a io ho evidenziato ora ce le ripassiamo ci riguardiamo un attimo queste quattro strofe ciascuna di queste quattro strofe aggiunte le prime a modi efimio guardate qui vi ho riportato la struttura vedete la strofa c è un mesodo le strofe e sono due ritornelli la strofa g è un mesodo ciascuna di queste quattro strofe aggiunte nella struttura standard dell'amebeo del dialogo lirico-epirrematico inizia con anapesti lirici li ho evidenziati in corsivo questi versi che io ho messo in corsivo sono tutti anapesti ma non sono anapesti recitati sono anapesti lirici ora la funzione di questi anapesti lirici è del tutto diversa a mio parere sul piano della composizione metrica ciascuna delle quattro strofe è fatta iniziare come appunto vi sto dicendo dalla serie di anapesti lirici che sono poi continuati poi lo vedremo nella parte curata da Giampaolo Galvani da metri diversi sul piano lessicale tutte e quattro le strofe cominciano con un'esclamazione dolorosa guardate ai folle Elena io io mio re mio re io io mio re io terra terra dal punto di vista strofico se considerate in continuità in continuità tutte insieme esibiscono uno schema CE e G che gli antichi teorici avevano individuato avevano individuato in maniera molto chiara e lo avevano denominato schema periodico dal punto di vista tematico esse evidentemente racchiudono un canto di dolore non le rileggiamo perché abbiamo letto prima la traduzione ma riprendiamo un po' i temi si tratta in realtà di un accorato lamento funebre improvvisato tipo gos dai vecchi consiglieri per il re prendendo le mosse dall'evocazione di Elena ai folle Elena alla quale è fatta risalire ogni sventura la strofe C il canto prosegue con il compianto due volte ripetuto in forma identica nell'effimnio del re morto ammazzato da sub della mano per terminare qui c'è il rimpianto del re morto ammazzato per terminare nella strofe G mesodica con un'invocazione alla terra e il rimpianto di non essere stati inghiottiti dalla dea che è un che è topico nel trenos prima di assistere alla misera fine del sovrano con l'inquietudine che il re non possa ricevere una sepoltura degna del suo valore e del suo rango se la lamentazione rituale spetta tradizionalmente alle donne un uomo che pianga in qualche modo cessa d'essere un uomo così in certo senso i vecchi consiglieri di fronte alla virile sovrana in questa complessa semantica musicale gli anapesti incipitari non sembrano avere come è stato suggerito il banale compito di evidenziare l'interazione del coro con la regina perché è stato detto che poiché Clitemestra prende a interagire a dialogare in anapesti il coro per far capire che scende più a patti con lei introduce anche anapesti nel canto lirico io non credo affatto che sia questo il senso fra l'altro come vi dicevo Clitemestra recita gli anapesti nell'amebeo o gli esegui in recitativo mentre gli anapesti lirici che segnano l'attacco di ciascuna di queste quattro strofe corale intercalate sono destinati al canto quindi è tutta un'altra performance l'impressione è piuttosto che nelle quattro strofe aggiunte che veicolano il lamento per il defunto re e introducono nella cornice standard dell'amebeo lirico epirrematico un elemento di novità di variazione di asimmetria gli anapesti lirici assumano una funzione di raccordo e di enfasi sottolineando al tempo stesso la continuità musicale delle quattro strofe che configurano il compianto funebre e la loro coesa unità tematica se le leggiamo di seguito cosa che non ho fatto ma potete poi rifarlo sono del tutto autonome queste quattro strofe possono avere una loro autonomia intercalata incastonata nell'amebeo e quindi questi anapesti fungono da raccordo sia musicale immaginiamo che tematico nell'ambito di quello che a questo punto a mio avviso con chiarezza risulta essere un geniale intreccio di generi musicali concepito da Eschilo per avviare con un impatto emotivo impressionante e un'inquietante incertezza sul futuro la prima tragedia della trilogia alla sua conclusione vi ringrazio ho finito posso applaudire grazie spero che sia stato chiaro credo che tutti quanti abbiano ammirato e apprezzato questo il tuo intervento dopo ci sarà la discussione adesso chiedevo all'organizzatore ad Alessandro facciamo questa pausa di cinque minuti cosa dici facciamo cinque minuti di pausa sono le 15.53 direi che alle 16 ricominciamo insomma alle 16 ricominciamo appunto il professor Galvani va bene va bene ok grazie grazie Eliana grazie a voi grazie a voi dopo discuteremo ovviamente ci saranno persone che diranno per ste corna però va bene aspettiamo aspettiamo allora ci vediamo tra 7 minuti tra 8 minuti sì aspettiamo l'arrivo il ritorno di Renzo e ricominciamo sì era 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 giusto l'audio era buono l'audio perfetto sì sì si sentiva benissimo e l'end out scorreva con chiarezza scorreva bene è stato splendido l'eliana tutto splendido davvero adesso mi aspetto molto dalle dalle controdeduzioni non lo so non so se ce ne saranno molte comunque non so se saremo in grado di farne perché c'è poco da controdedurre mi sembra esatto sì scusate se posso intanto mi affaccio per un saluto saluto l'Iana Gianpaolo ovviamente Alessandro Antonio che vedo e complimenti l'Iana devo dire che ho seguito con molto piacere la relazione veramente molto bella grazie ma sai che questa cosa del questa insomma diciamo questa osservazione a me è venuto in mente che ci fosse un filo che legasse queste quattro strofi che nell'ottocento hanno cercato di manipolare ora lo dirà anche Gianpaolo hanno cercato di metterle in risponsione hanno cercato di come dire riarmonizzare riassettare in maniera completamente in maniera fantasiosa proprio perché cominciano tutte con anapesti cominciano tutte con un'esclamazione di dolore allora ho provato a estrapolarle e mi sono resa conto che se le estrapoli chiaramente possono funzionare hanno ovviamente cioè ci sono dei nessi col contesto chiaramente ma se le togli dal contesto sono autonome hanno un'autonomia perché vedi se a un certo punto pensi a questo come un teatro in prosa così effettivamente queste dopo le manipoli cerchi di intervenire altre cose invece dal punto di vista proprio musicale di un inserimento di questo di questo cos come tu l'hai chiamato anzi anti-goss perché è cantato dal coro invece che dalle sì è un rovesciamento totale anche della musica anche delle forme musicali ecco esattamente e allora in questa dimensione tu la capisci però ecco stiamo anticipando adesso in questo momento la discussione no no infatti era terra e vabbè diciamo che la carne al fuoco c'è quindi la tentazione è forte comunque è verissimo quello che diceva Liana adesso avendo sotto un'altra edizione è scompato cioè nel senso non si vede proprio quella partizione sembra un tutt'uno e quindi uno non si accorge nemmeno a prima vista ecco di questa possibilità e quello invece è una cosa che è bene mettere a fuoco sì infatti che nasce dalla osservazione poi della tradizione manoscritta naturalmente va bene allora seguiamo però il anche tu Marco tieni tutto il resto per il seguito e seguiamo invece l'ordine la scaletta che i nostri organizzatori hanno predisposto e diamo la parola al professor Giampaolo Galvani appunto perché faccia la seconda puntata di questa di questa splendida questo splendida intervento sì ecco la mia seconda puntata si ricollega strettamente alla prima e prende spunto proprio anche da questo abbozzo di discussione che c'è appena stato proprio perché io mi soffermerò sull'assetto lirico dell'amebeo lirico epirrematico e in particolar modo presenterò una serie di riflessioni sulla struttura metrica e sulla struttura strofica tratte da un mio lavoro che è di prossima pubblicazione sui Cantica della Gamennone il forte impatto emotivo che l'ultimo corale della Gamennone doveva esercitare sugli spettatori e pienamente apprezzabile solo nel momento in cui si tenga conto sia del dettato verbale sia della dimensione musicale che caratterizzavano la tragedia le performance teatrali di quinto secolo infatti sono state opportunamente definite rappresentazioni multimediali all'interno delle quali la componente testuale interagiva strettamente e secondo modalità di volta in volta differenti con gli aspetti più propriamente musicali e orchestici sebbene i testi tragici e comici siano giunti sostanzialmente privi della musica è tuttavia possibile recuperare almeno in parte questa dimensione perduta del teatro antico grazie allo studio dei ritmi e dei metri che entrano in composizione nei canti eseguiti dal coro e dagli attori l'analisi della tessitura metrico-ritmica di un canto non fornisce esclusivamente un imprescindibile supporto alla critica testuale ma consente anche una più esauriente comprensione del messaggio veicolato dal testo poetico tra l'articolazione metrico-ritmica e il contenuto di un testo non sembra occorrere un rapporto casuale in numerosi casi i metri-ritmi rafforzano i contenuti espressi dal coro o dagli attori e non di rado è possibile osservare come determinati nuclei tematici ricorrano all'interno di una tragedia sempre in associazione a specifiche sequenze metriche come è stato evidenziato nella prima parte di questo intervento non solo la distribuzione dei metri-ritmi ma anche l'utilizzo di determinate strutture strofiche o il passaggio da una modalità esecutiva ad un'altra costituiscono elementi essenziali per una più profonda e completa interpretazione del testo la veste metrico-ritmica e poematica dunque deve essere studiata ed analizzata con la stessa cura ed attenzione prestate al dettato verbale poiché essa attiene anche al senso e al livello semantico alla luce di queste premesse risulta evidente che intervenire sull'assetto lirico di un canto modificando le sequenze che entrano in composizione e le articolazioni strofiche che sono state tramandate significa mutare non solo la forma ma in qualche modo anche il contenuto stesso dell'opera poiché come è stato opportunamente osservato il senso non è in quella forma ma è quella forma in questa seconda parte mi propongo di mettere in luce una serie di interventi moderni operati sulla faccia smetrica dell'amebeo al fine di valutare se tali modifiche sono realmente necessarie e se migliorano la nostra comprensione del testo a partire dall'ottocento infatti è invalsa la prassi di dare scarso credito all'assetto lirico tramandato dai codici e dai papiri esso non sarebbe ascrivibile all'autore ma andrebbe considerato come il mero frutto della speculazione alessandrina deturpato inoltre da errori di trasmissione accumulatisi nel corso dei secoli secondo questo paradigma teorico nell'interpretazione delle forme metriche la tradizione passa in secondo piano rispetto all'observazio e allo judicium del singolo editore l'analisi che qui si propone parte invece dallo studio della polometria trasmessa dai manoscritti che non deve essere certamente difesa a prescindere ma che talvolta presenta un assetto quanto meno di pari dignità rispetto alle ipotesi ricostruttive moderne prima di analizzare alcuni passi dell'amebeo pare doveroso soffermarsi brevemente sulla tradizione manoscritta del lagamennone dato che almeno parte dello scetticismo nei confronti della polometria tradita è imputabile alla presunta inattendibilità dei codici che tramandano la tragedia per buona parte di essi infatti dipendiamo da tre manoscritti che più o meno indirettamente provengono dall'ambiente di Demetrio Triclinio un erudito bizantino operante tra XIII e XIV secolo al quale è stato attribuito il merito di aver riscoperto la risponsione strofica questo non significa che prima di Triclinio i manoscritti non conservassero traccia della polometria ma semplicemente che i copisti si limitavano a copiare i canti in risponsione riproducendo tendenzialmente con una certa fedeltà il layout che trovavano nell'antigrafo senza avere consapevolezza dello stretto legame tra strofe e antistrofe Triclinio Triclinio al contrario dei suoi predecessori attraverso la lettura di testi quali il manuale di efestione gli scoli metrici a Pindaro il commento metrico di Eliodoro da Ristofane riuscì ad individuare la corrispondenza che occorre all'interno dei carmi cataschesi anche se talvolta i suoi interventi per risistemare un testo o una polometria guasti o ritenuti tali dallo studioso paiono piuttosto ingenui e meccanici non mancano casi in cui l'erudito si serve di vere e proprie zeppe metriche per colmare una responsione irregolare o casi in cui tenta spesso maldestramente di ricondurre sequenze rare a forme più consuete al punto 8a dell'endout ho elencato i tre manoscritti che tramandano l'amebeo lirico epirrematico e questi tre manoscritti rappresentano due fasi del lavoro tricliniano su eschilo il laurenziano 31 8 f e il marciano greco 616 siglato con la lettera g appartengono alla prima fase del lavoro di triclinio quella nella quale l'erudito non ha ancora piena contezza del rapporto responsivo mentre il codice neapolitanus 2 f 31 l'autografo tricliniano costituisce l'ultima redazione l'ultima fatica quella nella quale la responsione è ormai pienamente ristabilita nonostante la diffidenza nei confronti dello scarso acume filologico emetrico del dotto bizantino l'assetto colometrico dell'amebeo lirico epirrematico è generalmente conservato nelle edizioni moderne con alcune significative eccezioni che meritano di essere prese in esame le modifiche più significative investono la prima coppia strofica i versi 1406 1411 in responsione con i versi 1427 1432 e i due mesodi i versi 1455 1461 1537 1550 se adesso possiamo scorrere al punto 9a eccolo qua nella prima coppia strofica i tre codici sono concordi nel riportare un assetto colometrico che vede la successione di un colon giambico il primo a cui seguono nell'ordine tre coppie di docmi e una sequenza composta da un ulteriore docmio e da un ferecrateo dal punto di vista ritmico tutte le tipologie metriche che entrano in composizione paiono coerenti sia il giambo sia l'antispasto che secondo la teoria metrica antica è la cellula fondamentale tanto delle sequenze docmiache che si trovano ai cola 2 3 e 4 quanto di quelle gliconiche il ferecrateo di colon 5 appartengono al medesimo genere ritmico cioè al genus diplasion al genere doppio caratterizzato da un rapporto di 2 a 1 tra il tempo imbattere e il tempo in levare tre i punti ritenuti problematici dagli editori in primo luogo l'interpretazione metrica dei primi due cola in secondo luogo la presenza dell'oiato all'interno della coppia di docmi e in terzo luogo l'associazione del docmio con il ferecrateo nell'ultimo verso della coppia strofica ecco se si può scorrere leggermente per vedere lo schema metrico eccolo sì in merito al primo problema va osservato che gli editori hanno variamente ricolometrizzato e interpretato i due cola iniziali al punto 9a scorrendo eccolo barney ad esempio nel suo tentamento demetris del 1809 anticipava ed ha non è qui rappresentato in rosso anticipava ed ha non nell'explicit del primo verso ottenendo una coppia di docmi seguita da un cretico due anni dopo Seidler spostava ctono trefess nell'incipi del verso successivo isolando quattro brevi all'interno della catena docmiaca Blomfield nel 1812 è ancora sotto propose di isolare il primo docmio ed intendere il secondo verso come un dimetro giambico riorganizzando poi a cascata i docmi che seguono tale interpretazione probabilmente grazie anche all'avallo di Herman che vedete riportato nella colonna di destra nella sua edizione del 1852 si è imposta nella quasi totalità delle edizioni del secolo scorso la colometria tradita può essere forse essere difesa qui la cautela ed obbligo se interpretiamo il primo colon come la successione di un cretico con primo elemento soluto e di un pentenimere giambico associazione nota che ricorre in Pindaro nelle coefore di Eschilo nell'edipo a colono di Sofoca io vi ho riportato al punto 9b una serie di loci similes in cui troviamo l'occorrenza la successione cretico pentenimere giambico la ricolometrizzazione accolta dai più recenti editori avrebbe il merito di spostare l'oiato alla fine del verso è il cosiddetto problema 2 nello schema metrico che io vi presento c'è uno iato che cade tra due docmi la ricolometrizzazione moderna sposta questo iato ricolometrizzando il tutto alla fine del verso ma va osservato che non mancano casi di iato e brevi sillongo all'interno di coppie docmiache come dimostrano e io qui vi ho riportato sempre nel punto 9b loci similes una serie di casi attestati nei manoscritti e generalmente accolti anche dagli editori moderni in cui troviamo un uiato o una breve sillongo cioè quei segnali che demarcano una pausa melica nel dettato appunto strofico all'interno di una coppia di docmi per quel che riguarda infine l'interpretazione dell'ultimo verso costituito da un docmio e da un ferecrateo è possibile ricordare che la medesima associazione ne ricorre al verso 823 del reso di Euripide lo trovate al punto 3 del punto 9b e che i due cola sono in sinafia nei versi 1448 1449 1468 1469 dell'agamennone la colometria esibita dai codici dunque non presentando incongruenze che ne compromettano la liceità merita di essere presa in considerazione almeno alla pari con le moderne ipotesi interpretative un'ancor più sistematica opera di ricolometrizzazione ha interessato i due mesodi Herman propose di mettere in responsione tra loro le due stanze ipotizzando una lacuna di 4 dimetri anapestici e mezzo dopo Teleian di verso 1458 cioè le due stanze prive di responsione che costituiscono questo schema particolarmente complesso dell'amebeio lirico e più rammatico vennero poste da Herman in responsione tra di loro come se fossero due stanze kataschesi non sono mancati poi tentativi di ripetere i mesodi rendendoli di fatto dei veri e propri effimni tale tentativo ancora riscontrabile in alcune edizioni novecentesche mi riferisco all'edizione di Villamovitz o all'edizione di Mason che partengono sono tutte del primo novecento distrugge tuttavia la coerenza del dialogo le parole della regina infatti costituiscono spesso una risposta polemica alle ultime parole pronunciate dal coro ai versi 1475 seguenti ad esempio la regina descrive l'operato del demone che il coro appena menzionato nell'antistrofe B i versi 1468 1474 ugualmente ai versi 1567 seguenti clitemestra si dichiara disposta a sopportare la punizione divina paventata dal coro nell'antistrofe F a ciò si aggiunga che la scelta di una determinata struttura compositiva da parte dell'autore svolge un preciso ruolo nella costruzione della scena i ripetuti interventi di clitemestra che talvolta si collocano dopo l'antistrofe talvolta dopo l'efimio impediscono un'esecuzione ordinata e lineare del canto e contribuiscono al tempo stesso alla creazione di un dialogo mosso e concitato se tale tentativo di armonizzazione è ora generalmente rifiutato non sono mancati tentativi di correggere la colometria trasmessa dei due mesodi a proposito dei versi 1455 1461 va osservato che il testo presenta una sintassi problematica io accolgo qui la ricostruzione di Vilamovitz che al verso 1459 propone di sottintendere un complemento oggetto interno dipendente dal verbo epentiso con il quale concordano i due accusativi teleia nepo l'umnasto ora ti sei ornata della corona ultima e che molto sarà ricordata l'assassinio di Agamennone rappresenterebbe dunque l'ultima impresa di Elena che dopo aver causato molti lutti a Troia ora è responsabile anche della morte del sovrano vista agli occhi del coro come il culmine della catastrofe la colometria accolta da West e il punto 10A che raddoppia senza reale necessità l'interiezione presenta una serie omogenea di dimetri anapestici chiusi da un paremiaco se si può scorrere un po' in basso ecco si vede che nello schema metrico West dispone il testo per dimetri dando un'interpretazione però unitaria come se fossero come se fosse una successione indistinta di sei anapesti ma la colometria non richiede di essere modificata se solo si ammette al verso 1456 la forma del dimetro brachicataletto attestato che vanta varie attestazioni nell'antigone di Sofocle nelle Lettra nelle Fenice io vi ho riportato al punto 10B i loci similes in cui è possibile in cui è attestata appunto la forma del dimetro brachicataletto il dimetro anapestico doppiamente catalettico e al verso 1457 quella del pentemimere anapestico che ricorre per citare il solo Eschilon nei persiani nelle supplici nelle umenidi quindi vanta diverse attestazioni eschilee stessa sorte tocca la seconda parte del mesodo dove viene postulata la successione del dimetro la successione dimetro-docmiaco trimetro-giambico cretico-itifallico è sempre lo schema di West ma tale assetto richiede di espungere l'enclitica dee dal testo ma qui l'enclitica ha la funzione di marcare la contrapposizione tra le morti procurate da Elena Troia e quella più recente procurata ad Argo sia ad accogliere il luogo del tradito Teleian la congettura Teleian con scansione bisillabica la colometria tradita ancora una volta presenta una sua razio il verso 1458 che troviamo in alto se saliamo un attimo dovrebbe esserci all'inizio del testo ancora dovrebbe esserci lo schema metrico a fianco eccolo qua la colometria tradita ancora una volta presenta tuttavia una sua razio il verso 1458 che segna il passaggio dal ricordo delle sventure di Troia espressi in Anapesti alle più recenti uccisioni di Cassandra e Agamennone può essere inteso come un dimetro coriambico ipercataletto mentre il colon successivo come monometro giambico e pentemimere giambico che la antica dottrina metrica descrive anche come dimetro giambico giambica alcaica quindi diciamo che lo stacco tematico tra le morti del passato e le morti del presente è segnato anche da uno stacco metrico la colometria proposta dai più recenti editori elimina sequenze attestate anche se meno usuali e rende secondo l'opinione vulgata dei moderni la tessitura più naturale più omogenea e più ordinata ma occorre chiedersi se nel tentativo di recuperare l'antica faccia smetrica del canto tali criteri in cui la componente soggettiva sembra giocare un ruolo non secondario possano costituire una guida sicura o quantomeno preferibile rispetto alla tradizione manoscritta l'ultimo l'ultimo mesodo è il punto undici si ricollega strettamente con le altre strofe sciolte da responsione continuando come è stato detto appunto nella prima parte di questo dell'intervento di oggi continuando il lamento per il remorto i vecchi esprimono il proprio rimpianto per non essere stati inghiottiti dalla terra e si domandano attraverso una serie incalzante di interrogative chi potrà mai compiere i riti funebri la continuità tematica con il primo mesodo e i due film è evidenziata sul piano formale dalla tessitura metrico-ritmica caratterizzata da una serie di anapesti seguiti da una chiusa in metri diversi l'incipit anapestico è inoltre caratterizzato da un pattern piuttosto evidente nel quale ai dimetri a cataletti e catalettici sono intercalati i monometri che contengono parole o espressioni significative al verso 1539 ricorre l'apax argurotoicu che designa la vasca tomba fatta d'argento in cui Agamemnon è stato ucciso al verso 1452 l'espressione esuto d'erxai sottolinea lo sdegno del coro che si chiede se clitemestra indicata con il pronome su avrà l'impudenza di fare questo cioè eseguire i riti funebri per il defunto al verso 1545 il nesso carin antergon designa l'omaggio per le imprese compiute un omaggio che dovrebbe essere rivolto ad un grande sovrano come Agamennone ma che se reso da clitemestra risulterà acarin non gradito come osserva giustamente Enrico Medda la colometria è stata modificata senza ragioni cogenti nelle edizioni moderne a partire da Botte siamo ancora nel 1831 in particolare sono stati eliminati tutti i monometri al fine di ottenere ancora una volta una più regolare successione di dimetri anapestici e paremieci se scendiamo allo schema metrico di West significativo a questo proposito è proprio l'atteggiamento di West che preferisce non tener conto dell'articolazione interna della sezione anapestica a favore di due lunghe successioni di 6 e 10 anapesti nell'ultima parte del mesodo il coro torna a chiedersi chi potrà levare con sincerità una lode per il sovrano defunto gli anapesti lasciano qui spazio a sequenze di natura diversa forse un dimetro d'attilico seguito da sequenze giambo-coriambiche due aristofanei e poi baccheo-cretico-baccheo gli editori preferiscono accorpare i primi due cola ottenendo una sequenza lunga in conclusione la colometria tramandata dai codici tricliniani dà senso metrico e non sembra contenere incongruenze tali da richiedere tutti gli interventi proposti nelle edizioni moderne tali interventi possono essere ricondotti a due tipologie principali in primo luogo l'eliminazione di versi rari ma comunque attestati in ambito tragico a favore di sequenze più note mi sembra significativo notare che delle occorrenze eschilee del pentemimere anapestico nemmeno una sopravviva nelle più recenti edizioni di eschilo in secondo luogo l'eliminazione di sequenze troppo brevi anche laddove come nel caso del secondo mesodo l'alternanza di dimetri monometri sembra strettamente correlata al piano dei significati è doveroso chiedersi se tale tendenza all'uniformità possa e debba costituire il principio guida nel nostro tentativo di recuperare l'originale veste metrica delle opere poetiche o se non sia più sensato fidarsi della varietà metrica esibita dai manoscritti cioè di quella poichilia che costituisce uno dei principi cardine dell'estetica antica grazie per l'attenzione grazie 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 Giampaolo per questa bellissima ma lascio la parola al professor Ruttosi che saprà usare parole migliori delle mie non hai l'audio posso interrompere la condivisione sì direi che si può interrompere adesso tanto se serve o è l'aria attiva scusate avevo qualche ho avuto qualche problema nel riattivare video e audio adesso penso mi state mi sentite sì ti sentiamo adesso grazie professor Galvani per questa brillante e convincente analisi metrica adesso io vorrei iniziare il dibattito partire con il dibattito vedo chi alza la mano chi parte non posso partire io come presidente chairman Marco inizi tu posso iniziare fare un po' da rompighiaccio ma anche qui appunto mi complimento appunto con con Giampaolo perché effettivamente appunto ho ho preso varie note è stata una appunto anche la sua una relazione molto ricca devo dire ma partendo adesso dunque ma intanto da alcuni passi che ho denializzato intanto che me le ricordo mi ero appuntato a parte mi sembra sia assolutamente insomma corretto cercare di non per l'appunto andare a modificare la polometria antica soprattutto laddove poi c'è una per l'appunto un senso e anzi anche proprio delle scelte efficaci allora lì tra i casi che avevi elencato per esempio mi colpì dalla scelta per esempio quella di West versi mille cinque quattro cinquantasei seguenti di restituire una sequenza anapestiche molto regolari il più possibile dimetro eccetera ma se si va togliendo a un certo punto mi sembra quel dimetro anapestico brachicatalettico che effettivamente a noi insomma può dar magari fastidio dire poveretto questo verso che è doppiamente insomma mutilato alla fine ma in realtà poi da anche mi sembra la parola che dovrebbe esserci lì alla fine quel psukas tas tas polas psukas dove effettivamente far cadere la musica magari appunto essendo proprio fine di un colon di un colon brachicatalettico quindi quell'ultimo quelle due ultime silabe lunghe assumono anche un loro rallentamento insomma mi sembra che che non sia male ecco quindi piuttosto che uniformare dando quindi perdendo le sottolineature della musica mi sembra invece ecco che sia giusto cercare in questo caso di mantenere quindi è assolutamente un'osservazione ma che va insomma nella direzione di quel che dicevi e tu hai portato i paralleli perché Marco se devo se posso intervenire un attimo è un elemento che è che è emerso e che siamo di fronte a una a un punto estremamente concitato dal punto di vista del significato e quindi la metrica e la musica che non abbiamo ma che possiamo in qualche maniera recuperare ne almeno col pensiero dovevano sottolineare questo anche gli stessi docni che fanno in questa direzione cioè sottolineare questo momento concitato questo questo scontro tra queste due realtà insomma queste due realtà e credo che questo vada in questa direzione sì io sono ringrazio Marco per l'osservazione e condivido quanto ha detto appunto Renzo Tosi sull'importanza della musica per sottolineare per veicolare insomma il messaggio per rafforzare ecco il messaggio verbale sì sicuramente qui questo dimetro anapestico brachi cataletto che va a cadere proprio con tas panico las psucas è significativo qui sembra proprio esserci una come dire una coincidenza metro sintassi metro testo dettato verbale ecco secondo me uniformare tutto a una lunga sequenza di anapesti ora è vero che non c'è un cambiamento nel genere ritmico non c'è neanche un cambiamento nella tipologia di metri utilizzati però di fatto secondo me questi queste peculiarità queste sottigliezze le perdiamo nel momento in cui diamo per scontato che quella è una serie uniforme di anapesti secondo me perdiamo qualcosa nella nostra capacità di leggere interpretare questi testi che come diceva Renzo Tosi sono testi per musica e che avevano sicuramente nella parte orchestrica ma soprattutto musicale una componente fondamentale e noi la metrica ci fornisce proprio una chiave di lettura in più da questo punto di vista però ecco questa è l'impostazione che io ho cercato di dare questa impostazione deve partire sempre dalle fonti cioè la fonte è la tradizione manoscritta che ripeto posso dire una cosa pertinente e a completamento di quello che state dicendo che ha detto lei Gian Paolo che ha detto Marco quando troviamo qua una una doppia catalessi quando troviamo un piede in meno questa per noi è la faccia è l'aspetto metrico ma nessuno ci dice cosa accadesse nel canto cioè laddove west unifica tutto se noi rispettiamo l'assetto dei manoscritti troviamo che qui manca un piede che poteva essere completato con una fiorettatura con della musica cioè magari quel dimetro veniva completato in qualche modo perché non ci dimentichiamo che questo è solo l'aspetto metrico questo è solo l'alexis la musica poi poteva avere dei completamenti la danza perché qui c'era anche ovviamente una componente orchestrica quindi a maggior ragione effettivamente è più prudente lasciare l'assetto dei codi dei manoscritti perché può nascondere ci può dire qualcosa della partitura orchestrica della partitura ritmica che ci fossero fiorettature che ci fossero cose del genere mi sembra quanto è probabile anche Marco anche quel segno là nell'epitafio di Sicilio quel segno strano di tremore che cosa può indicare semplicemente che c'era certo gli allungamenti la macratricronos esattamente a tre tempi certo e quindi anche qui quando troviamo un segno di catalexis o di addirittura doppia catalexis metricamente ce lo dobbiamo tenere non dobbiamo cercare di cancellarlo secondo me perché probabilmente nel canto magari dicevano psucas così e quindi completavano il dimetro oppure c'era l'auletta che completava i quattro tempi mancanti cioè non dobbiamo mai perdere di vista l'aspetto performativo ecco questo è il punto che a volte il filologo il filologo da tavolino dimentica più che il filologo ha proprio il pensiero che questi siano testi letterari non testi musicali testi teatrali insomma in questa maniera tra l'altro anche il nostro senso ritmico ormai abituato forse anche a una musica molto più regolare rispetto appunto quindi un po' c'è un rischio anche da questo punto di vista di trasportare sensibilità nostre insomma nei metri antichi però vedi Marco adesso mi viene in mente un esempio se tu vedi il testo da ponte di Don Giovanni nel famoso passo di Leporello voi capite quel che fa però se voi sentite come viene cantato quel voi capite voi sapete adesso in questo momento non viene in mente voi sapete voi sapete viene ripetuto due volte viene ripetuto due volte voi sapete quel che fa perché musicalmente dal punto di vista musicale è così infatti noi abbiamo solo la Lexis purtroppo noi abbiamo solo la Lexis è come se dei libretti di musica dell'opera lirica avessimo solamente libretti e lì perderemo ancora di più perché devo dire che effettivamente quei testi non so se reggono al confronto con grandi Marco non reggono al confronto da una parte dall'altra la musica antica era più semplice esatto certo sì un'altra cosa che mi veniva in mente sulla relazione di Liana che mi ero segnato ma era effettivamente questo la cosa interessante anche relativa proprio all'esecuzione che mi sembra che hai mostrato molto bene sulla diversità appunto di esecuzione degli anapesti e quindi quegli anapesti cantati del coro che precedono tra l'altro quelli recitati appunto da Clitemestra ma come pur essendo lo stesso ritmo poi la diversa realizzazione performativa giochi molto e anche questo è un elemento che come dire noi abbiamo perduto ma che recuperiamo se stiamo davvero appunto attenti alla partizione strofica e anche a quello che in fondo sono un po' delle linee tratteggiate che il testo ci dà e quindi per quello mi sembrava molto interessante anche considerare questo insomma sapendo un po' anche tutto quello che le fonti antiche in parte ci trasmettono su quanto anche il contrasto tra recitazioni diverse poste a contatto tra di loro giocava insomma mi viene in mente sì quei problemi dello pseudo aristotele lì si parla di paracataloga e canto però se questo è vero per il contatto stretto tra paracataloga e canto lo sarà maturagione tra appunto canto e recitazione sullo stesso ritmo certo che poi lì si parla sì di paracataloga e canto e il problema viene spesso introdotto a proposito dei trimetri intercalati ai lirici qui praticamente gli anapesti lirici introducono sezioni propriamente liriche quindi facevano proprio facevano blocco lirico con la strofe mentre invece gli anapesti di chitemestra sono anapesti appunto catasticoni insomma seriali recitati recitativo insomma non credo che la funzione di quegli anapesti sia semplicemente allusiva al fatto che indicativa del nuovo del tacito armonizzarsi del coro venire incontro del coro a chitemestra che in effetti poi non è tanto neanche vero in realtà anzi invece c'è un capovolgimento totale un sottomettersi una virilizzazione totale di chitemestra rispetto alla debolezza evidente dei venti del coro no ma tra l'altro mi sembra mi sembra strano anche dire dire questo perché da quello che ho capito e quel che mi sembra proprio questa questa ripresa con due modalità differenti fa emergere maggiormente quello che dicevi cioè questo ribaltamento della della figura del del coro da una parte e di chitemestra dall'altra cioè il fatto che il go sostanzialmente lo canti lo canti il coro il coro maschile è qualcosa di frappant come direbbero i francesi è un effetto è un colpo di teatro proprio è un colpo di teatro e questa ripresa secondo me sottolinea questo non certo l'armonizzazione del coro a chitemestra insomma invece mi sembra esattamente tra l'altro no no tra l'altro questo fatto clitemestra è vero che tu giustamente hai detto che il coro in fondo la tratta la pensa sempre come una donna però fin dall'inizio è chiaro chiarissimo che il personaggio forte della camela vero protagonista è clitemestra non dimentichiamoci che il soldataccio iniziale dice androbulonchea è lo stesso è lo stesso coro quando la presenta dopo la parodo la presenta dice ecco che arriva con lei che è la nostra regina quella che è stato il baluardo della terra di Apia è una presentazione di una regina non una presentazione di una di una donna così di tutti da poco con lei che il nostro baluardo ha messo una cosa di questo genere è la presentazione ecco e quindi chiaramente diventa è sicuramente un personaggio principale un personaggio estremamente forte e diciamo questo tipo di lettura consente di vedere come Estilo utilizzasse anche il livello della significazione musicale e probabilmente anche orchestrica ma comunque musicale come utilizzasse tutti gli strumenti che aveva a disposizione compresa la musica che era una componente importante ma questo scusate se intervengo su questo questo rovesciamento molto forte dei ruoli e appunto il coro che piange cessa di essere uomo a fronte di questo personaggio invece maschile che si presenta fin dall'inizio diciamo la metrica in questo modo quasi magico riesce a tirarci fuori la danza riesce a tirarci fuori la musica e ci suggerisce no? ci dà suggestioni orchestiche e musicali mi chiedevo se da questo punto di vista ci dà anche suggestioni proprio di recitazione perché anche il canto il canto è recitato a volte ci dimentichiamo di questo mi veniva in mente prima quando Renzo parlava del canto di moda di Leporello anche nel cantare nelle parti cantate c'è una forma di recita quindi qualche elemento come dire che Eschilo grande musicista forse proprio attraverso la metrica dava ecco Reuti dava gli autori non lo so non so se questo sia avvertibile cioè tu vuoi perché allora le modalità sono tre recitato recitativo e intonato e cantato al di là del fatto che questi fossero indubbiamente cantati cioè queste quattro strofe intercalate che a mio parere insieme costituiscono una specie di Goss di Trenos che poi Goss e Trenos nel teatro tragico si confondono insomma comunque diciamo un canto funebre al di là di questo è difficile dire quale fosse ci piacerebbe avere la melodia quello che posso dirvi è che quello che posso però mi posso dire qualcosa nel senso che mi sono chiesta se ci siano esempi di canto funebre di canto trenodico in tragedia che magari ha un attacco di tipo anapestico dove gli anapesti hanno un ruolo mi sono andata un po' a vedere allora prima di tutto mi è venuto in mente il commosso il grande commosso delle coeffore naturalmente di cui Gianpaolo ci può dire molto visto che se ne è occupato dove alle alle strofe corali intonate le strofe non sono corali scusate le strofe liriche intonate da nel commosso nel canto appunto dialogico intorno alla tomba del re intonate da Orestia ed Elettra il coro in questo caso il coro interviene in anapesti lì gli anapesti quindi sono ben inclusi in questa cornice di trenos di canto funebre non è chiaro se questi anapesti Gianpaolo fossero in recitativo fossero intonati perché lì in genere il coro canta in eschilo è difficile che il reciti quindi probabilmente erano anapesti cantati come qua ma poi ho trovato però in Euripide nelle Fenice nell'Andromaca di Euripide quando Peleo intona un trenos sul cadavere distrutto di Neotolemo sfigurato di Neotolemo Peleo comincia il vecchio Peleo comincia a cantare in anapesti e poi continua quindi e poi il suo canto più che in anapesti in ritmo dattilico ecco dattilo anapestico mentre invece nel finale delle Fenice il canto funereo di Antigone ha di nuovo un incipit tutto in ritmi dattilici dattilo anapestici che poi continua con altre forme metriche un po' come qua poi ancora un altro caso è nell'Elettra è nell'Elettra di Euripide dove di nuovo abbiamo appunto il Go sintonato da Elettra sulla tomba di Agamennone di nuovo appunto con un inizio di forme di ritmi catadactilon pari dattilo anapestici che poi proseguono quindi ora non so purtroppo è difficile in questi casi uscire dal circolo ermeneutico nel senso che ci piacerebbe tanto avere magari un esempio uno specimen della liturgia reale del canto funebre reale non è chiaro se poi Eschi lo avesse attingesse a modelli della liturgia reale come a volte fa perché a volte lo fa nell'Agamennone sempre nell'Agamennone in certi altri casi lo fa però diciamo non è inesemplato una struttura di questo tipo dove si comincia con ritmi di tipo dattilico come dattiliana pesti e poi si continua con code di altro genere ritmico in genere di tipo giambico coriambico insomma un po' con composizioni che si assomigliano a queste ecco però appunto Alessandro la tipologia del canto questa è difficile dirla però era un canto possiamo dire che era un canto come fosse intranato dovremmo avere la melodia dovremmo avere le note però quelle non le abbiamo però già riusciamo dalla sola lettera del testo se leggiamo insomma bene anche le forme riusciamo a recuperare aspetti che magari leggendo solo il testo non emergono ecco se ne coglie la carica espressiva se si coglie di più la carica ma capiamo che c'è un'espressività molto particolare sì 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 infatti voglio ringraziare anche io moltissimo perché è un discorso fondamentale questo che sicuramente vale anche soltanto per la poesia lirica da leggere anche per la poesia epica nel tentare di cogliere aspetti ritmici come diceva anche Marco prima ogni volta che noi cerchiamo anche di far capire ai nostri studenti che cos'è la metrica classica dobbiamo far capire un concetto di ritmo che è veramente diverso da quello anche a orecchio da quello che abbiamo noi ma qui il paradosso diventa meraviglioso perché è quello che ma anche appunto dell'elemento musicale è melodico ovviamente ma già già col ritmo voglio dire teniamoci pure tutte le suite francesi con la mano sinistra va benissimo anche soltanto avere soltanto il basso e già abbiamo tantissimo cioè già capiamo tantissimo di quello che succede no? nelle sei danze della suite e questa cosa perdonate il paragone è un po' peregrino ma chiaro certamente ma tu hai fatto Mozart ti ma torna indietro tu hai certo no però voglio dire già soltanto avere la mano sinistra di Glenn Gould ci fa capire tantissimo cos'era una suite voglio dire barocca o rinascimentale e qui rimane però il vuoto il grido del vuoto della lacuna della melodia quello che mi veniva in mente è possibile istituire su ad esempio queste ricorrenze ad esempio questi anapesti delle possibili anche corrisponsioni di leitmotiv tra personaggio e intervento e tipo di pathos e tipo di ritmo perché tu hai fatto un ottimo esempio no? Liana sul ritmo anapestico che ritorna in momenti ben determinati che si raggrumano raggrumano in qualche modo con ciò che avviene prima e seguono ritmicamente ma non solo anche emotivamente quello che è stato detto prima è verissimo ipotizzare anche una corrispondenza appunto di canto melodica e a volte dei latimotivi di personaggio questo è una rimane questo sì secondo me sì fra l'altro ora mentre parliamo mi viene in mente una cosa prima non ho detto ma che insomma sappiamo tutti e cioè che l'anapesto proprio in Euripide in particolare ma chissà forse Eschi gli aveva aperto un po' la strada come spesso specializza l'anapesto come ritmo del lamento no Gianpaolo l'anapesto spesso viene mescolato ai docmi e si parla addirittura di anapesti di lamento quindi insomma ora questo esempio ischileo si parla di anapesti di lamento la critica ottocentesca parla di schroeder primo novecentesca parla di anapesti di lamento per Euripide perché in Euripide il fenomeno è plateale macroscopico però appunto ad andare a ben guardare Eschilo questo è un piccolo esempio in Eschilo di anapesto che introduce un canto lamentoso fra l'altro ci sono fra l'altro del lamento questo non l'ho fatto notare nella lezione ma indizi proprio testuali quando lui ci sono dei futuri dei casi di futuro cosiddetto performativo no ai versi allora aspettate che prendo il verso greco proprio in questa in queste quattro strofe aggiunte quando il coro dice no ti so treneson chi sarà chi farà il trenos ma poi anche nelle strofi precedenti quando dice in che modo piangerò aspettate che adesso non lo trovo perché sto cercando ecco è nell'Efimnio è nell'Efimnio che però non trovo sì ecco dice pos seda cruzo pos seda cruzo questi sono tipici in Pindaro sono comunissimi futuri performativi cioè sta riferendosi a quello che già sta facendo in quel momento e quindi è tutto un insieme di Lexis che è accompagnata da una melodia forse trenetica e da un lamento appunto in onore del re sì come piangerti come piangerti sì come ti piangerò come ti piangerò e lo sta già facendo certo cioè sta sta dicendo ciò che fa come quando Pindaro dice ti celebrerò in realtà lo sta celebrando sì esatto il cosiddetto futuro performativo è interessante anche questo sì insomma diciamo che se guardi insieme testo e musica viene fuori effettivamente una lettura una lettura più prospettica più ad alto rilievo insomma viene fuori lo spessore ecco un po' di più non c'è dubbio così come è fondamentale la musica per noi anche solo per far capire la metrica antica se non fai capire che il ritmo è già parte integrante della musica uno studente di liceo ma anche dei nostri non capirà mai che un ritmo della poesia epica ha una sua musica tra l'altro il topos del lamento è retorica musicale che noi conosciamo dalla retorica scimentale musicale il ventiquattresimo preludio nella fuga del clavicembre del temperato è il topos del lamento e lì è lunga breve o comunque queste come si chiamano non sono dipodie comunque sono dei topoi che vengono chiaramente percepiti dall'ascoltatore e non soltanto quello colto come dei topoi in qualche modo emotivi comunque Renzo in sostanza serve una nuova filologia che non sia quella hermaniana ma quella di Arnon Kort per una historical performance della fletteratura classica io sono vecchio questo tocca a voi comunque grazie grazie a te grazie tra l'altro se posso fare anche la parola scattolini che dirà peste corno di tutto ciò che mi hanno detto finora però se posso fare un corollario certo da tutto questo emerge che sicuramente la musica e la metrica la musica di Eschilo non era poi così ripetitiva come potrebbe sembrare dalle critiche di Euripide nelle rane di Aristofane insomma perché a un certo punto sembra che sia solo platto tratto platto tratto platto tratto invece assolutamente non lo era no è già ma Aristofane faceva il suo mestiere insomma certo certo d'accordo no ma tu giustamente hai detto a un certo punto forse in questa in questa espressività Eschilo aperto la strada di Euripide e questo secondo me Eschilo è un discorso interessante Paolo Scatolin poi Nicola Rondino Scusa io vi saluto che scappo a lezione grazie mille ancora delle relazioni grazie Marco dalla relazione alla lezione esatto esatto ciao ciao buon proseguimento diamo la parola Paolo Scatolin grazie grazie buon pomeriggio grazie alla redattrice ciao ciao Paolo buongiorno a tutti al relatore veramente una splendida splendida lezione io avevo una curiosità sull'analisi delle femmine o sempre 1455 se fosse possibile si rivederlo grazie vado vado l'analisi la parte di Gian Paolo io ho Paranu Selena eccola esattamente mi incuriosiva molto nel confronto tra se potete scendere leggermente così eccolo lì perfetto grazie così vediamo le due analisi metriche cioè mi chiedo nella quarta sequenza dei manoscritti quella che termina con Paul Limnaston abbiamo quella che insomma potrebbe essere una sorta di brevis in longo mi domando se quella presenza quella breve a quell'altezza abbia creato molto imbarazzo appunto ai metricologi moderni che hanno cercato di neutralizzarla in qualche modo e quindi in sostanza la mia domanda era questa in questo caso una pausa forte dopo Paul Limnaston che stacca rispetto al verbo reggente fa gioco credo a chi analizza senza preconcetti la colometria manoscritta perché in questo caso non si può certo dire che in cola dei manoscritti risalgano una specie di normalizzazione retorica in cui si vuole evitare l'interruzione di una catena sintattica qui la catena sintattica viene interrotta quindi da un punto di vista metrico è una sorta di lezio difficile che qualcuno deve valutare insomma oggi non si può nasconderla come la polvere sotto il tappeto e come invece sembrerebbe dall'analisi per esempio dall'analisi di West e più in generale volevo chiedervi se come avete integrato l'analisi quindi delle pause forti diciamo delle pause sticometriche nell'analisi colometrica dei manoscritti e se avete avuto delle difficoltà a farlo cioè se le colometrie dei manoscritti sono effettivamente in risponsione questo ecco mi interessava perché è un livello diciamo superiore rispetto alla colometria di analisi e credo che faccia gioco a chi vuole ripeto analizzare la faccia smetrica dei codici senza preconcetti ecco grazie sì grazie per l'intervento proprio Paul Wimnaston è uno dei motivi per cui la colometria viene modificata nelle edizioni moderne oltre al problema della omogeneità delle sequenze metriche c'è questa alternanza breve lunga che nello schema metrico crea particolare difficoltà agli eseggeti moderni insomma ai metricisti moderni in realtà in questo contesto se interpretiamo la sequenza come un dimetro coriambico ipercataletto per la teoria metrica antica lì non c'è difficoltà ad avere una sillaba breve nel senso che naturalmente gli antichi avrebbero chiamato questa sillaba una sillaba a diaforos quindi un finale indifferenza questo si trova nei manoscritti forse però deve spiegare questo polymnaston con la semplificazione del gruppo delle due liquide delle due nasali sì allora c'è un primo problema che riguarda appunto la scansione della y come breve perché il gruppo mno in realtà può essere scandito può fare gruppo diciamo e di fatto non va a chiudere la sillaba precedente ma il gruppo mno va ad aprire la sillaba successiva anche su questo c'è come dire non c'è accordo tra gli editori di Eschilo alcuni accolgono la possibilità che il gruppo mno in Eschilo io qui vi ho riportato una serie di di loci alla nota 2 vi ho riportato una serie di loci similes e cioè il gruppo mno talvolta viene scandito come monosillabico e quindi va a aprire semplicemente la sillaba successiva io penso che sia in realtà accettabile questa scansione proprio perché in altri casi dovremmo ammettere costantemente la presenza di risponsione libera tutte le volte che ricorre il liricis il gruppo mno e questo mi dà piuttosto da sospettare cioè penso che sia più logico pensare che in quel caso il gruppo mno semplicemente avesse una scansione particolare fosse pronunciato come un gruppo unico ecco per quanto riguarda invece il problema delle pause sticometriche quindi iato e brevis in longo e come queste ricorrono all'interno dei codici manoscritti fondamentalmente non si verificano in eschilo almeno laddove nei casi tranne nei casi in cui la colometria è corrotta ci sono problemi testuali di un quindi lacune nel testo oppure un testo paresemente corrotto normalmente le pause forti ricorrono sempre a fine colon questo senz'altro e quindi c'è una corrispondenza tra diciamo le le pause sticometriche e la disposizione dei cola in questo frangente in particolare io non ho segnato appunto una pausa forte proprio perché come dire come criterio ho scelto di selezionare solo i casi in cui abbiamo una sillaba breve in il luogo di una lunga dove lo schema metrico mi richiede una lunga e quindi qui ho segnato una sillaba a diaforo non so se ho risposto alla tua domanda Paolo però forse Giampaolo Paolo chiedeva anche come ci si regola rispetto alla sticometria al verso melico anche su questo sì come ci si regola rispetto al verso melico nel senso che io ho riportato appunto qui i cola esattamente come sono disposti nel nel manoscritto e ho indicato esclusivamente le pause forti le pause forti cioè gli auto i brevi si lungo laddove queste appunto siano presenti nel testo quindi non ho considerato come segnali di fine diverso cioè di interruzione di pausa melica laddove il canto si interrompeva e c'era il musicista che in qualche modo riempiva poteva riempire con un'infiorettatura dove c'era una vera pausa melica ecco io ho seguito come criteri solo quello dello iato e della sillaba breve in elemento lungo non ho seguito ad esempio la brachicatalessi o la catalessi perché nelle colometrie antiche spesso noi troviamo sequenze di metri catalettici o brachicatalettici e quindi la catalessi di fatto almeno nelle colometrie antiche non sembra costantemente indicare una fine una pausa forte in questo senso ecco questo mi sembra sono i criteri che ho seguito nell'articolazione poi è chiaro che se c'è una mesi di parola si va in celeste se c'è la capo rientrato c'è rientro grazie grazie no no sono assolutamente grato per questa risposta diciamo così Paolo che c'è una sospensione l'atteggiamento è quello di chi sospende il giudizio cioè dove si vede con chiarezza che c'è una pausa forte la si segnala dove c'è un'incertezza e non c'è una una sinafia chiaramente si si tace praticamente cioè quello che si indica sono le sinafie con la con la rientro con l'estesis per il resto soltanto lo iato e la bravissi in longo ci regoliamo così più o meno Nicola Rondina o Rondina Rondina buon pomeriggio professoressa buon pomeriggio professori sono un semplice studente dell'università di Bologna quindi grazie grazie avrei una semplice domanda ringraziando ovviamente la professoressa e il professor Galvani per queste per queste bellissime lezioni insomma devo dire che per me è stata un po' complessa perché sono solo al terzo anno e queste particolarità maestriche spero Nicola che la il handout che gli handout abbiano aiutato un po' sì assolutamente quello sì e comunque a proposito del di Eschilo e del lagamento ne chiedevo a proposito appunto di queste sequenze anapestiche degli anapesti di lamento che citava la professoressa e notavo che nei persiani di Eschilo ai versi 930 e seguenti ci sono il coro e serse appunto che anche lì intonano un lamento con degli anapesti almeno mi sembra e mi chiedevo se potesse esserci un richiamo all'interno dell'opera di Eschilo da una parte un coro ed un re e serse che producono un lamento stavolta non di morte però quasi breve da dire e invece dall'altra il coro della Gamennone che intona che improvvisa un lamento per il loro per il re defunto Gamennone appunto guardi quindi questo suo intervento Nicola mi dimostra che lei non solo ha seguito ma ha seguito in maniera alla perfezione proprio quindi questo mi fa veramente piacere la ringrazio perché in effetti è vero nei persiani ci sono anche gli anapesti che servono a intonare un lamento funebre ed è il coro dei persiani di nuovo un coro maschile che è un coro anche lì il coro dei persiani usa più spesso gli ionici nella tragedia dei persiani un altro tipo di metodo però ci sono anche anapesti effettivamente devo dire anche lì il coro dei persiani viene rappresentato come a mio avviso io ho lavorato un po' su quel coro da questo punto di vista viene un po' femminilizzato viene anche trattato musicalmente come un coro non troppo virile diciamo quindi è assolutamente pertinente la sua osservazione confermo e sicuramente c'è una c'è un richiamo sicuramente c'è una una analogia quindi grazie grazie mille lei altri interventi altre domande qui è un messaggio di di Alessandro Iannucci saluto mano a mano gli ospiti che si vanno e che torneranno insomma nei prossimi nei prossimi incontri sì se si ha tempo anch'io tornerò l'importante e riuscire ad avere il tempo ecco tra una cosa e l'altra chiedevo altri interventi credo che ci siano tante tante cose tanti elementi che possono essere visti quindi penso che se non ci sono altri interventi devo devo ringraziare i relatori devo ringraziare l'organizzatore per questo splendido seminario i relatori insomma adesso aspetterei ancora un minuto cosa dici Alessandro sì dai vediamo se c'è ancora qualche qualche altro qualche altra curiosità anche i ragazzi per esempio possono anche fare domande e così anche su cose che non hanno ben capito approfittare della professoressa Gianna Lomiento ad esempio che è massima esperta di metrica il professor Galvani per chiedere cose che non hanno ben capito cose di questo genere non si scandalizzano anche le domande così di questo tipo assolutamente no ci mancherebbe beh forse sai che forse forse devono anche un po' riflettere abbiamo comunque abbiamo superato come Alessandro avrà notato la soglia delle due ore da dieci minuti quindi magari forse sono anche un po' così adesso sono 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 frastornati stanno riflettendo comunque abbiamo raccolto tutti molti molti stimoli e abbiamo capito quanto sia importante studiare studiare la metrica questo mi sembra la metrica però detto così Alessandro sembra che uno debba debba fare solo l'esercizio di scansione invece la metrica è proprio per capire la multimedialità e la performance si può capire solo così non si capisce è proprio ecco la multimedialità lo capisci leggendo la metrica in questo modo allora facciamo una rincomposizione io sono partito dicendo che Liana è una studiosa che non volevo dire rappresentarla come Liana metrica no volevo dire lei è una studiosa che studia la metrica la studia approfonditamente ma per copire il testo per capire veramente i grandi classici non per fare semplicemente le scansioni perché può fare una specie di matematica sui testi ma perché diciamo io amo molto anche la poesia no e credo che se studiamo un poeta trattandolo solo come un filosofo o comunque come un filosofo come un pensatore noi gli facciamo giustizia perché lui utilizza anche lui mette del ritmo mette del canto ah certo e quindi secondo me secondo me studiando poeti dovremmo dobbiamo poeti in questo caso non sono poeti sono compositori poi sì e i poeti sono i nostri studiando i compositori ecco studiando i compositori dobbiamo tener conto di quello hanno voluto dire qualcosa anche con quello infatti l'altra volta scusa Renzo se dico questa cosa per ricollegarmi al seminario precedente perché c'è una continuità in questi seminari l'altra volta osservavo che molto è bello osservavo anche a proposito della relazione di Toni che adesso ho dovuto andare via ho visto mi ha lasciato un messaggio che è importante ricostruire la parte spettacolare perché se riusciamo a restituire un po' di parte un po' di spettacolo questo secondo me può essere di stimolo anche per un regista moderno per una ripresa perché dei valori che sono nel testo ora i registi magari questi qui sono testi forti chiaramente sono testi molto forti sono quasi trattati come sì come sono testi che vengono presi come insomma che sono molto densi dal punto di vista semantico per cui possono dare adito alle realizzazioni più 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 fantasiose però alcuni degli stimoli che il compositore aveva messo se fossero resi chiari anche ai registi contemporanei probabilmente contribuirebbero ad un non dico ad un recupero perché quello non ha senso ma darebbero delle idee potrebbero contribuire a dare idee sulla ricostruzione sulla sul trattamento dei personaggi per esempio sulla loro caratterizzazione non lo so oppure no però insomma penso che nei commenti dovremmo proprio forse anche insistere su questi aspetti come dire quasi di suggestione registica sì il testo riesce in qualche modo a farci dire che possa essere plausibile certo senza inventare senza esagerare però questo potrebbe essere molto utile proprio alla rimessa in scena contemporanea per dare più efficacia a Eschilo d'altro canto è vero quello che diceva Liana è una riflessione che ho fatto molte volte soprattutto a lezione qui siamo di fronte a testi a testi così complessi e così pieni ecco dal punto di vista sia semantico sia musicale sia sia metrico sono testi che sono in cui secondo me la regia migliore è una regia che restituisce a questi testi il punto centrale è un po' lo stesso problema che si ha con Shakespeare quando tu metti in scena Shakespeare tu devi dare a quella parola la sua la sua centralità forse l'amleto migliore che io ho visto l'ho visto con degli attori che recitavano in Blue Jeans nel senso che la parola deve essere la parola che la parola il canto in questo caso doveva essere anche il canto anche anche la musica doveva avere una centralità molto forte nella performance io di questo sono abbastanza abbastanza convinto insomma soprattutto con Esco questo secondo me e l'altro canto c'è anche da dire un altro un'altra cosa è verissimo che questo può aiutare il regista contemporaneo però intanto tutti i registi quando prendono in mano un'opera anche giustamente inseriscono un po' del loro è inutile che andiamo a lamentarci è chiaro che andiamo a lamentarci quando c'è una rappresentazione anche di un'opera che noi amiamo e vediamo fatta in maniera differente a volte quella rappresentazione fatta in maniera è differente può piacere altre volte è tipo può non piacere altre volte come in un caso di un ratto del seraglio a Bologna mi faceva gridare tagliate la testa al regista però comunque il regista mette sempre qualcosa quindi ogni performance è differente e questo è anche interessante perché forse anche le persone di spettacolo quando prendono in mano uno di questi testi forse hanno anche loro qualcosa da insegnare questo sicuramente questo sicuramente guarda io infatti sono a favore del riuso delle riprese però voglio dire magari se adesso ormai si metto io da quello che capisco le riprese del teatro antico si fanno in equip cioè il regista si accompagna a un tecnico no? allora se il tecnico magari spiegasse facciamo l'esempio di oggi che il registro di Crite Mestra dal primo in questo dialogo finale ha una climax cambia da un momento all'altro succede qualcosa per cui Crite Mestra diventa più larga perché diventa un erinni cioè la sua trasformazione in erinni no? che avviene nella mus, nel test nella ritmica comincia a recitare i nanapesti è maestosa è una dea orrenda è una dea vendicativa e poi a un certo punto il coro che intona che intona comincia a piangere comincia a piagnucolare intercala risposte alla regina sempre più deboli e poi cade in un pianto allora se uno spiega questo al regista il regista può non farsene nulla oppure si può far venire le idee per perché come dire il tecnico gli restituisce i valori che sono nel testo non solo i valori legati alle leziones cioè al testo verbale ma anche i valori la mettono in scena si si ma è così poi un giudista metabolizza queste indicazioni in modo diverso e questo poi è bello è l'infinita creatività del teatro anche se vedi quando per esempio vedo ho assistito delle baccanti in cui la musica era erano accompagnate da violini io mi sono detto ma insomma le baccanti devono essere accompagnate da percussioni punto e basta da fiati percussioni giustamente di violini beh la sai diciamo un'ultima cosa veramente particolare così dicono questo oggi ho chiamato il presidente un pazzo insomma sai chi era veramente a chi assomiglia la chitemestra di questa di del malagamennone alla regina della notte a chi alla lo stavo per dire la regina della notte certo la regina della notte certo la regina della notte certo quella è così la maniera è una vera ai rigni nel finale all'inizio all'inizio quella presentazione del coro assomiglia veramente alla presentazione quando dice si cont si cont si cont è una cosa chiaramente una figura grandiosa sì è una figura grandiosa sì va bene abbiamo discusso così un po' è così che si discute in maniera seminariale bello grazie bello e quindi non so adesso forse è il caso di chiudere chiudere va bene non so ho visto che Paolo aveva fatto un segno Paolo era un pollice alzato per dire che sono d'accordo sull'analisi percussiva delle baccanti del professor Tosi ecco ecco beh non è solo del professor Tosi lo dice all'inizio la parola che avevano il tamburello hanno diventato i tamburelli quindi sai non ci vuole una grossa filologia era un segno di assenso un cenno di assenso capito oppure serverebbe il violino elettrico della PFM della premiata forneria Marconi ecco quello un po' qualcosa di dionisiaco lo porterebbe beh sì perché effettivamente sì perché bisogna trasporre il dionisiaco anche quello perché anche lì il codice musicale cambia no? perché quel violino elettrico indubbiamente ha anche qualcosa di stridulo che che per gli antichi doveva essere armonioso doveva essere liguroso questo che è una cosa un po' strana insomma va bene grazie ancora a tutti grazie a tutti siamo in limito a dare i prossimi appuntamenti perché appunto le cose vanno avanti e noi ci rivediamo ancora il 3 marzo e quindi tra pochissimo 3 marzo 2021 alle ore 9 e passeremo alle ore 9 questa volta si fa presto la mattina e passiamo al versante latino ecco entriamo nel versante latino io faccio lezione alle 9 bene allora porta i tuoi studenti rendo se voglia comunque ci saranno Francesca Romanaverno di Università di Roma la Sapienza che parlerà della strana coppia chieste Cassandra profetti di sventura nella gamennone di Seneca e poi Alfredo Casamento Università di Palermo qua plura possi esplura patiente al feras a gamennone modello di sapienza nelle troiane di Seneca va bene ci saremo Gian Paolo scuola però di tutto per esserci spero insomma che ci siano tanti che siano tante persone come oggi e speriamo di andare avanti con questi seminari che si stanno veramente nivelando molto molto divertenti molto molto interessanti si stanno imparando tante cose io registro tutto e quindi poi metteremo tutto quanto a disposizione prima ancora del libro quindi faremo anche noi un prodotto multimediare un libro e il video grazie grazie un saluto grazie a tutti arrivederci grazie Gian Paolo grazie a tutti grazie Renzo del tuo chair e grazie a tutti arrivederci ciao arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti